Fratellino, fratellino, devo dirti una cosa importante. Vivi, che cosa c'è? Beh, voglio avvisarti che mamma e papà hanno intenzione di farti una sorpresa. Cosa? Una sorpresa? Di che sorpresa si tratta? Ci hanno già comprato una casa, insomma. Che cos'altro vogliono comprarci? Una macchina? Ma non ho l'età giusta per guidare, una macchina sarebbe inutile. Ma no, non vogliono comprarti una macchina, di soldi ne hanno già spesi fin troppi per voi. Sì, ecco, la sorpresa. Ehm, però se ve la dico, giurate di non dire a mamma e papà che ve l'ho detta. Lo giuro, Vivi, che cosa bolle in pentola. Mamma e papà hanno intenzione di farvi una sorpresa e venirvi a trovare. Ehm, a casa nostra? Sì, ecco, vogliono vedere come ve la cavate. Trovate bene a vivere da soli perché siete giovani. Io volevo solo avvisarvi perché può essere scioccante trovarsi davanti mamma e papà così senza essere avvisati. Grazie, Vivi, per avermi avvisato. È ora di andare in classe, piccioncini. Non vi basta vivere assieme? State appiccicati anche a scuola. Sebastiano impara da Morty. Tu non stai mai appiccicato a me. Possibile? Eh, ehm, arrivo, Cherry. Vuoi che venga io a casa tua? Perché, beh, insomma, a casa mia c'è Rory, c'è Cherry, c'è Easy e Felix, sai, vuole stare sempre con me. Ehm, ecco, non so se è una buona idea farti venire a casa mia. Cosa? E perché? Beh, perché oggi molto probabilmente verranno i genitori di Morty. Vogliono farci una sorpresa. Una pessima sorpresa. Cosa? E perché vogliono venire a casa vostra? Si sono autoinvitati. No, peggio. Vogliono vedere come ce la caviamo. Ecco, non pensano che siamo grandi abbastanza da poter vivere da soli o da poter formare una famiglia. Non si fidano di noi, in poche parole. Ah, ma dai, sono sicura che non è così. Vorranno solo, insomma, vedere se ve la state cavando. È normale, sono due genitori. Non è che non si fidano di voi. È normale, fa parte dell'essere genitore. Ehi, Morty, che ne dici oggi di recuperare la partita di basket che non abbiamo fatto ieri? Ecco, ragazzi, non lo so perché molto probabilmente oggi verranno i miei genitori a casa mia. Cosa? I tuoi genitori? E perché? Ora vivi da solo. Perché? Hai invitato i tuoi genitori a casa. Finalmente sei da solo con Jenny. E vuoi i tuoi genitori tra i piedi? No, non è che li voglio tra i piedi. Si sono autoinvitati, anzi. Non me l'hanno neanche detto che sarebbero venuti. Me l'ha spifferato mia sorella Vivi. Perché vogliono farmi una sorpresa. Ho capito tutto. Loro vogliono controllarti. Esatto, vogliono controllarmi. Non si fidano di me e non si fidano di Jenny. Dai, Jenny, non fare quella faccia. Sono sicura che andrà benissimo. Perché ho come la sensazione che le cose non andranno bene come te lo immagini, Aya. C'è sempre qualche guaio. Morty, senti, ci ho riflettuto. E non pensi sia il caso di chiamare i tuoi e dirgli che magari passiamo noi da loro per cena. Che cosa vengono a fare qui? Ci tocca pulire dappertutto. E anche cucinare. Insomma, ci rovinano il pomeriggio. Eh, lo so. Ok, provo a chiamarli. Non ti preoccupare, Jenny. Ehm, aspetta però. Se chiamo mamma e papà, scoprono che Vivi ci ha spifferato tutto e metto nei guai Vivi. Ma no, senti, digli che ti è venuta questa illuminazione. Insomma, hai pensato che loro potessero venire qui a controllarci, ma digli che non è una buona idea perché noi abbiamo altro da fare. Lo sai che questo piano non funzionerà. Vivi verrebbe scoperta. Non posso, non posso chiamare i miei. Jenny, mi spiace. Non metterò mia sorella nei guai. Forse andrà bene questa serata, no? Mamma e papà vogliono farci una sorpresa. E noi li sorprenderemo. Una gran maleducata. Allora, c'è Sebastian. Dlindlon. Cosa? Sono già qui, ma non è ora di cena. Magari hanno deciso di venire qui a bersi un caffè e non per cena. Meglio. Insomma, disturbano di meno se bevono solo un caffè piuttosto che cucinargli l'intera cena. Ok, aspetta. Vado io ad aprire. Mamma, papà. Ehi, non puoi dire mamma e papà. Devi far finta di non sapere che sono loro. Ah, giusto, giusto. Arrivo. Cosa? Voi due. Che cosa ci fate qui? Amico, siamo venuti a salvarti. Amico, siamo venuti a salvarti. Siamo i tuoi amici. Non potremo mai lasciarti qui tutto triste e solo soletto. Cosa, ma veramente sto aspettando i miei genitori sono qui con Jenny. Ah, e dai, facci entrare. Facci fare almeno una partita con la play e su via. Eh, non lo so perché Jenny è già un po' agitata per l'arrivo dei miei genitori. Eh... Oh, grazie Morty, sei il migliore. La mia play si era rotta. Ah, capisco. Quindi siete qui solo perché avete la play rotta. No, e anche perché siamo tuoi amici. Siamo qui pronti a salvarti da un pomeriggio noioso. Ben detto, Sebastian. Eh, non ho bisogno di essere salvato. Ciao ragazzi. Cosa ci fate qui? Siamo venuti a giocare con la play? Già, giochiamo con la play. Sai, la nostra è rotta. Eh, Morty? Eh, sì? Hai invitato qui i tuoi amici a giocare con la play sapendo che sarebbero venuti qui i tuoi genitori? Non li ho invitati, si sono autoinvitati da soli. Perché tutti si autoinvitano a casa nostra? Dlindlon. E ora chi è? Saranno i tuoi genitori, Morty? E cosa facciamo? Visto che ci sono i tuoi amici qui, penseranno che siamo degli irresponsabili, che invitano sempre gli amici a casa. Oh, su via, Gianni, è normale invitare gli amici a casa. Eh, nascondetevi. E dove vuoi che ci nascondiamo, amico? Non lo so dove volete, ma nascondetevi. Se ci sono i miei genitori non possono vedere che siete tutti qui a giocare con la play invece che farci studiare. Sto arrivando. Cosa? Easy, Cherry, cosa ci fate qui? So che Sebastian è qui, mi ha mandato un messaggio. E Leo? Lui non mi risponde. Leo? Dove sei Leo? Perché non mi rispondi al telefono? Eh, ragazze, veramente sto aspettando. I genitori di Morty vengono a farci una sorpresa. Oh beh, allora li conosceremo, no? Cosa? Volete fermarvi qui a conoscere i genitori di Morty? Non se ne parla. Insomma, questa sembra una festa. Siete tutti qui. Ah, su via, esagerata. Non vedo neanche un drink. E neanche un pacchetto di patatine aperto. Quindi non si può definire una festa. Dov'è Leo? Ragazzi, potete uscire. Falso allarme. Non sono i miei genitori. Cherry! Cherry, sei arrivata? No, tesoruccio. Mi sei mancato. Anche tu, Cherry. Ma ora giochiamo con la Play? No, 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 no. Qui nessuno gioca con la Play. Dovete andarvene. Ma Leo dov'è? Perché non lo vedo qui? Non è qui con voi. Perché non mi risponde al telefono? Non so dove sia Leo. Easy, mi spiace. Easy, Leo ha avuto un contrattempo. Ci raggiungerà più tardi. Come ci raggiungerà più tardi? No, ragazzi. Leo non ci raggiungerà. Deve andarsene. O meglio, dovete andarvene anche voi. Andatevene tutti. Non potete stare qui in casa nostra. Oh, Jenny, non mi pare il caso di reagire così. Mamma mia. Hai una casa tutta tua. Puoi anche farci. Stare qui per un po'. Già, Jenny. Potremmo anche dormire qui. Oh mio Dio, Jerry. Senti che idea ho avuto. Possiamo dormire qui. Finalmente dormiamo assieme. Senza i genitori che ci controllano. Eh no, non è una buona idea. Non lo è affatto. Soprattutto non oggi. Arrivano i genitori di morti. Glindlum. Oh, questo deve essere Leo. Leo, Leo. Leo, tesoruccio. Finalmente sei qui. Cosa? Ma tu non sei Leo. Eh, no, non sono Leo. Felix, che cosa ci fai qui? Beh, sono venuto perché mi hanno chiamato i miei amici. Oh, fai Leo dov'è? Perché non viene qui? Mi sta forse tradendo? Leo, come osi tradirmi? Ma calmati Isi, nessuno sta tradendo nessuno. Ma Aya dov'è? Avevate detto che ci sarebbe stata anche Aya? Amico, l'abbiamo detto solo per farti venire qui. Lo sappiamo che altrimenti non ti schiodi dal tuo PC. Mi avete ingannato? Sì, ti abbiamo ingannato, ma era per una buona causa. No, Felix, anche tu qui. Devono arrivare i genitori di morti. Fratello, per favore, vattene. Jenny, tu cacceresti da casa tua tuo fratello? Beh, manderò un messaggio ad Aya e le dirò di raggiungerci qui. Glindlum. Vado io e sarà meglio che sia Leo. Sì, chi è? Ciao, Isi. Oh, Leo, sei qui, ma dov'eri? Mi stavi forse tradendo? No, Isi, non lo farei mai. Certo che no. Avevo un problema con la mamma. Cosa? Con tua madre? Sì, ecco, abbiamo discusso un pochino. Beh, Leo, ora sei qui e sei tutto mio? Ehm, perché state venendo tutti qui oggi? Non ci posso credere, manca solo mia sorella. Glindlum. Ehm, vado io. Non muovetevi. Arrivo. Sì? Ciao, Jenny. Ecco, mamma e papà sono qui, ma sono un po' lenti, quindi devono ancora prendere l'ascensore. Ehm, ma che cosa sta succedendo? Perché questa casa è piena di ragazzi e ragazze? Ah, sentite tutti fuori. Avete sentito? Stanno per arrivare i genitori di morti. Oh, mio Dio, questa è una catastrofe. Pensevano che state facendo una festa. E allora che male c'è? Siamo ragazzi e ci dobbiamo pur divertire. No, 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 qui non si diverte nessuno. Siamo due liceali che stanno per creare una famiglia e devono dimostrare agli adulti che ce la possono fare. E voi tutti qui ci state rovinando i piani. Perciò via, lanciatevi dal terrazzo. E' impazzito? Ci faremo male. Ehm, va bene, era un modo di dire. E andatevene, scusate, non voglio essere maleducato, ma dovete andarvene. Oh, caspita, ottima accoglienza. Dai, andiamo, ce ne forza. Non siamo i benvenuti? Ah, amico, questa davvero. Mi ha colpito il cuore. Non dovevi trattarci così. Già, morti, ci sono rimasto male anch'io. Ci hai cacciato di casa, non si fa, fratello. Ah, non vi voglio cacciare di casa, è che sembra una festa. E i miei genitori sono qui. Ehm, fosse troppo tardi. Perché? Non dirmi che sono già qui. Sì, guarda, sono alla porta. Vivi? Vivi? Che cos'è questa storia? Carla, cara, ti avevo detto che non era una buona idea fare una sorpresa. Sono pur sempre i ragazzi. Mi meraviglio di te, morti. Ehm, mamma, papà, non è come sembra. Pensate che vi avevo anche avvertiti, ragazzi. Vi ho spifferato la sorpresa di mamma e papà per non farvi combinare questo guaio. Ehm, mamma, papà, non è come sembra. È che i nostri amici si sono autoinvitati a casa nostra. Eh già, ecco. Volete accomodarvi? Ehm, noi togliamo il disturbo. Già, togliamo il disturbo. No. Ora voi vi fermate qui e mi aiuterete. Con i genitori di morti a fare bella figura. Nessuno uscirà da qui. Provateci. Beh, in fondo non stanno facendo nulla di male. Ecco. Sono ragazzi riuniti in una casa senza genitori. E i compiti? Quando pensavate di fare i compiti? Oggi non avete compiti da fare? No, mamma, mi metti in imbarazzo. Non sono un bambino. Se non sto facendo i compiti è perché non ne ho. Veramente? Avevamo compiti da fare? Ma sti tu non li hai fatti? Ah, sta zitta vivi. Insomma, guarda che situazione. Jenny? Jenny? Oh. Morti? Ma guarda, questi sono i tuoi genitori. Piacere, sono Aya. Eh, ciao, altri ragazzi. Questa è una festa. Ragazzi, state dando una festa? Beh, possiamo unirci. Non dire sciocchezze. Non dire sciocchezze. Eh, mamma, papà, che ne dite di fare una passeggiata e sbollire un pochettino? Andiamo. Eh, già, mamma, papà, usciamo a fare due passi? Sarà meglio. E forse ho cambiato idea sulla vostra vita di coppia. Ah, non ti preoccupare, Jenny. Parlo io con Carla. Oh, caspita, sono nel posto sbagliato al momento sbagliato. Eh, mamma, papà, scendiamo. Morti, sarà meglio che tu ci dia una spiegazione. Sarà meglio, hai fatto arrabbiare la mamma. Oh, oh. Oh, Jenny, mi spiace tanto. Abbiamo combinato un bel caos. Jenny, perdonaci. Ora i genitori di Morti ti odiano. Non ti faranno più sposare con lui. Ma chi ha parlato di matrimonio? E poi ve l'avevo detto di andare via, ve l'aveva detto anche Morti. Perché siete tutti qui? Perché tu vivi da sola. È bellissimo. A casa nostra ci sono i nostri genitori e non ci lasciano mai fare nulla. Volevamo un nostro posto, un nostro posto tranquillo. E il nostro posto di paradiso era qui, a casa tua, Jenny. Sebastian, non è una buona idea. Ed ora cosa penseranno i genitori di Morti di me? Io sono sempre stata una ragazza studiosa con la testa sulle spalle. E non ho mai dato una festa. Fino a poco tempo fa non avevo neanche degli amici. Ma ora è bello che tu abbia amici, Jenny. È una bella cosa. Jenny, non ti preoccupare. Sistemeremo le cose. Già, sistemeremo le cose. E io, in qualità di fata di primo livello, posso lanciarti... Non lo dire, Nea. Non dire che mi lanci la tua fortuna. Non usare. Perché no? Perché sei di primo livello e la tua fortuna fa un po' che... Eh? Stavi per dire una parolaccia? Mi sono fermata prima. Beh, ragazzi, secondo me i genitori di Morti sono dei tipi affabili. Quindi ce la faremo. Jenny, ritornerai ad essere la loro preferita. Noi ti abbiamo pagato quest'appartamento e tu ci ripaghi così, ripaghi così la nostra fiducia. Ma sono sicura che c'è una spiegazione. Non era una festa, vero, Morti? Non era una festa, sono solo miei amici. E sono grato di avere tutti loro nella mia vita. Morti, oggi tu dovevi fare solo una cosa. Studiare. Come puoi pensare di avere un futuro decente, di mantenere la tua famiglia, se non ti metti neanche a studiare? Insomma, vuoi essere mantenuto per tutta la vita da noi? Beh, se avete le possibilità, perché no? No, Morti! Scherzavo, dai, non si può neanche scherzare. È ovvio che quando sarò grande troverò un lavoro. Ma ora sono solo un adolescente e ho pur diritto ad avere degli amici, no? Morti, così non va. Sei un irresponsabile. Ma questi sono i suoi genitori. Buongiorno. Cosa? Jenny? No, mamma, quella non è Jenny. È Jennifer, la sorella gemella di Jenny. Cosa? Sei la sua sorella gemella? Lo so che cosa hai fatto. Sei anche stata arrestata. Morti, non sono più sicura che questa sia la famiglia giusta per te. Cosa? Tua madre vuole forse fare del razzismo contro la mia famiglia? Ma no! E invece sì, Morti, renditi conto. Jenny ha una sorella gemella che ha compiuto azioni malvagie e atroci. E sei sicuro che Jenny non sia altrettanto malvagia? Stiamo parlando di due sorelle gemelle. Ora questa cosa non mi piace più. Voglio riflettere. Vuole riflettere, ma gliela faccio vedere io. No, Jennifer, ti prego, non fare nulla, è mia madre. Jennifer, calmati. La mamma può sembrarti crudele, ma ha le sue buone motivazioni. Nei quali sarebbero? Morti. È uno zombie. Ha ereditato questa malattia da papà. Sì, ecco, colpevole, ma non avrei voluto. Difatti stavo cercando una cura. Vivi, lo sai benissimo. Non volevo che Morti nascesse zombie come me. Cosa c'entra che Morti è uno zombie? La mamma è preoccupata per lui. E anch'io, e anche papà. Gli zombie di solito sono malvagi. Ma Morti non lo è. Certo, non lo è, perché ci siamo sempre state io e la mamma, che siamo estremamente buone. Oh là là, complimenti, qualcuno si sta vantando. Non ti stai vantando un po' troppo della tua bontà? Chi mi dice che tu sia buona? Beh, semplice, perché mia madre è un angelo. E anch'io lo sono. Ah ah, questa è bella. Sono pazze, pazze. E poi hanno arrestato me. Questa va in giro a dire di essere un angelo. Ecco ciò che vuole dire mia figlia è che Morti è uno zombie buono perché ha avuto l'influenza di due angeli. Mia moglie e mia figlia. Morti, in quanto zombie, ha bisogno di esempi positivi nella sua vita. Se finisse in un giro di compagnie sbagliate o amicizie sbagliate, beh, potrebbe trasformarsi in qualcosa di molto pericoloso. Cosa? Interessante. Quindi, Morti ha una duplice natura. È buono solo perché ha attorno a sé amici e una famiglia che gli vuole bene. Ma se finisse in una cattiva compagnia, si trasformerebbe in uno zombie malvagio. Tutto questo è fantastico. E mi è venuta un'idea. Forse è l'occasione giusta per fargliela pagare a mia sorella. Mamma, mamma, dai. Jenny non è cattiva. Lo sai che altrimenti non lascerai mai Morti. Insomma, stare da solo con lei. Mi insomma, metterei anch'io nella loro relazione. Come ho sempre fatto. Ma Vivi, so scegliere la mia ragazza. E Jenny è fantastica, ok? È una brava, dolce ragazza. Lo vedremo, Morti, lo vedremo. Ma sei uno zombie. E non puoi vivere con chiunque. Oggi non è andata poi così bene la sorpresa che volevamo farti. Cerca di stupirci la prossima volta e magari cambieremo idea. Per ora cercherò di far riflettere la mamma. Grazie Vivi per avermi avvisato. Ma non è bastato, purtroppo. Sono tornato. Siamo tornati. Ai ai ai, che brutta faccia. Mi sa che le cose non sono andate poi così bene. No, mi spiace così tanto, Morti. È tutta colpa nostra, scusa. Ma certo, io vi ho perdonati. Siete miei amici. Mamma e papà hanno reagito troppo male. Non avrebbero dovuto. Già, fratello, ma lo sai perché lo fanno? È per colpa della tua malattia. Sei uno zombie. Devi stare attento. Quindi, ora tua mamma e tuo papà mi odiano? Non vogliono più farci vivere assieme? Non lo so. Ecco, spero che papà riesca a far cambiare idea alla mamma. Papà è più propenso a farci vivere assieme, ma la mamma sembra categorica. No, aspetta. Voglio parlarle. Non mi arrenderò così. Jenny, sicura di ciò che fai? Jenny? Troppo tardi, è già andata. Oh, Morti, perdonaci, perdonaci. Ora possiamo giocare alla play. Harry, sei davvero incorreggibile. Senti, Maurizio, non vedo perché devi far passare sempre me per la cattiva. Tu non ti preoccupi per Morti, per nostro figlio? Certo che mi preoccupo, ma deve iniziare a vivere la sua vita. È uno zombie che ci piaccia o no. E purtroppo gli ho trasmesso io questa malattia. Fai passare sempre me per la cattiva, non è giusto. Io mi preoccupo per Morti. Lo so, ma non possiamo difenderlo dalla vita. Gli si presenteranno sempre davanti persone malvagie o... Insomma, sta a lui decidere se gli abbiamo dato dei valori crescendolo. Sono sicuro che Morti rimarrà ad essere il nostro bravo Morti zombie. Certo, gli abbiamo dato dei valori, ma non so se fidarmi. Siamo i suoi genitori, ma non possiamo decidere la sua vita per lui. Signora Carla, Carla! Aspettate, vi prego! Jenny! Jenny, cosa c'è? Ciao, Jenny! Cara Jenny, ecco, so di non avervi fatto una buona impressione. Sono rimasta subito incinta di vostro figlio e... Non ho neanche una famiglia stabile e... Ora vivo da sola con lui, ma vi assicuro che amo vostro figlio. Oh, che romantica! Non basta! Beh, in realtà l'amore è la cosa più bella che ci sia e... Tutto ciò che desidero è formare una famiglia con lui e quando nascerà il bambino avremo finalmente la famiglia perfetta. La famiglia che abbiamo sempre desiderato. Per favore, dateci una possibilità. È vero, oggi il nostro appartamento era pieno di amici, ma non è bello questo. Certo, insomma, non era una festa, ma a voi può anche essere sembrata una festa. Ma vi assicuro che non lo era. Io e Morty siamo responsabili e il fatto di avere una casa piena di amici non lo vedo come un qualcosa di negativo. Anzi, forse è proprio perché siamo delle belle persone che siamo circondati da... Tante persone che ci vogliono bene. Eh, effettivamente avete molti amici. Ma che cosa ci facevano tutti lì? Si preoccupano per noi. Sanno che siamo giovani e... Stiamo intraprendendo una nuova avventura. Ma... Erano lì per aiutarci. Per non farci sentire soli. E gli amici... Non servono forse a questo. No, Jenny, ti ho giudicata male. Sei una ragazza profonda. È vero. Avere degli amici è importante. E... Vi faremo un'altra sorpresa. Vi do una seconda chance. E vai, Jenny, ce l'hai fatta, brava! Morty ha scelto bene. Sì, ce l'ho fatta! Morty! Morty! Jenny, no! È andata male con mamma e papà, vero? Ecco, Morty, no! Sto piangendo perché sono commossa. Eh? Cos'è successo? È successo che... Ho aperto il mio cuore a tua madre e a tuo padre. Ho parlato con sincerità di... Di tutto quanto, eh? Ci hanno perdonati, ci danno una seconda chance. Possiamo continuare a vivere assieme. Ma ci faranno una seconda sorpresa. Sì, evviva! Grande, Jenny, sei fantastica! Evviva! Allora è finito tutto alla grande! E propongo di giocare alla Play! No, basta con la Play! E voi? Fuori da casa nostra! Ok, è bello avere amici, ma... Ora ci prendiamo un momento solo per noi, io e Jenny. Oh, piccioncini! Piccioncini miei adorati! Andiamo, Gerry, lasciamoli soli! Va bene, vi lasciamo soli, piccioncini! Sono così felice! Abbiamo una seconda possibilità! E... Durante la nostra seconda possibilità, voi non metterete piede qui dentro! Grazie, Jenny! Prego! Sapete? Devo tutelare la mia famiglia! Ciao, ciao! Baci, baci!